Festeggiare il primo maggio lavorando. Questo è stato il motto di tanti commercianti piacentini che proprio nel giorno in cui si dovrebbe celebrare il lavoro hanno alzato le saracinesche per dare un impulso ad una ripresa tanto attesa. Quest'anno è stato veramente disastroso, non difficile, infatti oggi siamo aperti proprio per cercare di recuperare qualcosa, visto che comunque abbiamo delle dipendenti, degli affitti da pagare eccetera. Ce la mettiamo tutta, forza, 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 per tutti naturalmente. Oggi si deve lavorare per forza perché purtroppo con questa pandemia dopo tante chiusure dobbiamo per forza continuare e speriamo di avere delle belle prospettive. Comunque è un lavoro un po' più normale diciamo così. Oggi cerchiamo di recuperare perché effettivamente stiamo soffrendo parecchio per questa situazione quindi è giusto per chi ha la possibilità di venire a lavorare, di presenziare nell'attività commerciale. Che cosa pensa oggi festa del lavoro? Beh insomma penso che il lavoro sia un diritto fondamentale, adesso più che mai me ne sono resa conto, dà dignità alla persona perché il lavoro comunque è dignità, quindi penso che sia una delle parti fondamentali di quella che è la vita umana, la salute prima di tutto ma il lavoro è fondamentale, lavorare in dignità.